Fervono i preparativi qui affrascati a Villa Torlogna per la Festa dell'Unità che si terrà il 4, il 5 e il 6 settembre. Una domanda mi sorge spontanea, ma per l'occupazione di questo suolo pubblico, che non sarà soltanto questo palco e questa pista dove verranno poste le sedie e quant'altro, per l'occupazione di tutto questo suolo pubblico quanto pagherà il PD alle casse comunali. La cosa mi interessa perché vorrei anch'io organizzare una bella festa qui a Villa Torlogna e allora mi sto documentando sui prezzi.